eccoci qua ragazzi in un nuovo video mi tira sempre ciucco a me doppia apertura di bustine esatto per la vostra felicità ma quale vostra io proprio sono scontento come portafoglio partiamo con donatella adesso dov'è il barattolo guarda che dietro l'inter barattolo ancora lei ma dai che sono tre ma non è possibile io non l'ho tastata l'ho presa a caso hai preso ancora sono tre praticamente avevamo preso una volta due bustine di questa collezione e avevo tastato perché volevo lei doppia doppia ne avevamo e adesso io l'ho presa a caso mezza riplica eccola qua e donatella appunto io per lei era girata così ho soltanto fatto così pensavo che non era lei ma va bene ma ragazzi insomma se qualcuno la vuole la pigliate pure allora questa era a parte gli scherzi andrei scambio questa donatella perché tanto sì e volevo dire questa è la bustina della prima serie di questi unicorno allora mi piace tanto questa ai no mi aspetta 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 se ragazzi store piatto online vai mi aspetta 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 as Heavenly day sì oggi era bello bambù cosa una canna di bambù dolce e salato sì lily e james potter sì Kylie Pensavo kawaii che era lei Rubi Cos'è che rubi? Vai in banca a rubare Coccinella Spero che non porti sfiga Vedete Soprattutto perché sei rossa e nera Mamma mia Io molto li faccio ballare Allora E vedi come balla Chiara Che abbiamo trovato? Aspetta Cioè non ci credo Pallina abbiamo trovato Che curiosa Io cos'è che ho detto che mi piaceva? Cos'è che ho detto che mi piaceva? Cosa ho detto che mi piaceva? Ve lo ricordate ragazzi? Ho detto che mi piaceva Lily E chi abbiamo trovato? Lily Cioè Non l'ho fatto neanche apposta L'ho presa così a caso Pallina Pallina Cosa fai col cerchietto? Mannaggia E abbiamo trovato appunto Lily È lei? Mi sembra Oh no Aspettate ragazzi Mi sta venendo un dubbio No Non è lei Scusate Scusate Siccome che Voi dalla fotocamera Forse non lo vedete Ma sembra tipo un Lil Invece in realtà Invece in realtà noi abbiamo trovato Sunny Bay Che è bianca Cioè sulla carta è bianca Invece in realtà è un Lil Scusate Ritiro tutto quello che ho detto Che imbranato Grazie Ma mi sbaglio È un po' Marciatina Eh già E vabbè se ne va poi Comunque bellissimo E niente Questo è quanto Questo è tutto Sì Un altro pony Non volante in casa Sapete Ne abbiamo tanti Non di cavallo in casa Ok Anche per questa apertura È tutto Aspettate Eccoli lì Ragazzi Noi vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao